Ciao a tutti ragazzi qua Dexta, oggi sono qui con questo nuovo video su GTA 5 Online Oggi ho deciso di fare un qualcosa di diverso dal solito Come sapete io gioco praticamente sempre le attività degli altri giocatori su GTA 5 Online Ma oggi ho deciso di giocare delle attività che ho creato io tantissimo tempo fa ragazzi Ovvero la mia primissima gara e il mio primissimo ragazzi deathmatch Vi parlo di attività di 3-4 anni fa quando uscì il creatore per la prima volta Quindi non ci sono nella gara che so tubi, stunt e cose incredibili Ma è semplicemente una gara di velocità Però volevo come dire insomma giocare queste attività ragazzi Dato che le ho create appunto 3-4 anni fa non ci ho più giocato E volevo insomma ricodermi un po' il tutto insieme ovviamente a voi Anche se forse qualche video ce l'ho fatto ma non mi ricordo ragazzi È passato veramente tantissimo tempo e quindi direi subito di partire Ed eccoci qui ragazzi siamo prontissimi con le moto Fa un certo effetto giocare ragazzi nuovamente questa gara dopo veramente tantissimo tempo 3-2-1 partiamo subito vai Allora qui dovremmo avere subito un salto una cosa del genere Siamo in 16 giocatori che è il massimo numero di giocatori per questa gara Ok primo salto vedete gli stunt ragazzi professionali Prima non c'erano tubi, rampe e cose del genere Allora no no cos'è quello mi ha spinto nei paletti fuoristrada Vabbè comunque adesso recupereremo non c'è problema Facciamo un po' il medio agli altri Quella la shotaro tutta verde è bellissima Facciamo un po' il medio Andiamo andiamo Comunque questa qui è una gara praticamente tutta di velocità possiamo dire E ho scelto le moto perché con le auto ci sarebbero state spinte estreme Uh guardate qui visuale ragazzi particolare Questa cosa qui già neanche me la ricordavo Vai sono in prima posizione Ovviamente voi direte Dexta nella sua gara arriverà primo Io ne dubito di questa cosa Ne dubito tantissimo Vai vai andiamo 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 Qui c'è una curva Vai 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 ragazzi mi hanno buttato fuori strada Poi dovremmo avere tipo un salto da una collina L'unica cosa negativa di questa gara è che all'ultimo c'è una curva fatta malissimo Proprio nel peggior modo possibile Che con le moto si potrà fare credo senza troppi problemi Ma con le auto sarebbe stata veramente antipatica Comunque stiamo andando avanti C'è questo giocatore ragazzi che lagga in una maniera impressionante Vedete è una cosa proprio indescrivibile Allora vai stiamo continuando Ti faccio il medio perché laghi Mamma mia ho sfiorato un bus Ho sfiorato un bus ragazzi Allora qui Sì andiamo da questa parte Vai corriamo Attenzione Checkpoint preso Qui se non sbaglio c'è tipo un salto Da questa parte ragazzi Sì sì tra pochissimo ci sarà un salto Una cosa del genere Vai 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 Ecco qui tutte le rampe E si vola Vai perfetto Grandissimo salto Non fermarti lì Mamma mia la moto è saltata Niente la fisica come al solito Di GTA che non ha spiegazione Allora siamo arrivati praticamente alla fine della gara Io non so se vincerò io oppure quello che lagga ragazzi Medio 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 Allora dobbiamo andare qui Ora la vedrete la curva vergognosa Adesso Adesso la vedrete Gli altri forse non se l'aspetteranno ragazzi Però è qui È praticamente qui Ecco qui ragazzi Stavo sbagliando già pure io Curva 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 Andiamo dai che concludi in prima Vai 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 Impenna tutto Non fregarmi tu che laghi No mi hanno spinto Non ci credo ragazzi Era mia la prima Era mia la prima posizione nella mia gara Quello mi ha spinto e sono andato fuori Comunque sia Vabbè ovviamente era ovvio che nella mia gara Non arrivavo in prima posizione Comunque questa ragazzi era la mia primissima gara Che ho creato su GTA E adesso ci andremo a giocare invece Il mio primissimo deathmatch Che è una cosa Veramente proprio per devastarsi Ed eccoci qui ragazzi Invece nel deathmatch Che si chiama The deathmatch Cioè proprio Gli ho dato un nome Proprio super originale Allora vediamo un po' Qui c'era pure una zona segreta Ragazzi vedete giù bottini Siamo partiti con le armi Allora io salgo subito qui sopra Perché è un punto buono Dai sali sali Perché non sale Perché non sale Cosa? Gli altri salgono? Il mio personaggio no Fammi salire Dai dai Muoviti 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 Altrimenti quelli arrivano e ci sparano Qui ragazzi c'è pure una bifta Insomma questo è un punto un po' segreto Vai mitragliamoli 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 Vai che quello lo uccidiamo Perfetto Ci sono assistita Allora questo diciamo che È il punto vincente della mappa Perché Oh c'è uno lì Vai 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 Spariamogli Spariamogli Ok ragazzi Niente mi hanno ucciso Va bene io per ora faccio solo assist Comunque c'è questo punto Diciamo abbastanza Particolare Dove tu vai lì E ti puoi nascondere Insomma è veramente buono Oh Lì c'è qualcuno Niente è morto Allora mi servirebbe Vediamo un po' No qualche arma migliore ragazzi Mi servirebbe Lì c'è quello L'abbiamo ucciso C'è ovviamente il quad E altre cose che Sono inutili Perché appena li prendi muori Gli altri ti devastano C'è il barile esplosivo Bisogna fare attenzione Perché Si rischia di saltare in aria Qui c'è qualcuno Oh c'è uno lì C'è uno lì Uccidiamo No ragazzi Erano in due Erano in due Niente da fare Erano in due Loro sono saliti Nell'altra parte del tetto Perché ho creato Dei punti abbastanza Particolari Insomma Proprio apposta Per Per fare morire tutti Nei Nei peggior modi possibili Allora Sono risalito nel tetto Mitraiamo C'è uno lì ragazzi Vediamo Avviciniamoci Dov'è Dov'è quello Dov'è quello ragazzi Vediamo Rimango un attimo qui Magari lui si avvicina Perché è sopra al tetto E io poi gli sparo Ecco lì Vai 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 Mitraia Mitraialo Mitraialo Com'è che non muore No ragazzi Ma è impressionante O laggano gli altri O laggo io Cioè questa è una cosa Indescrivibile Comunque non lo so Saliamo da questa parte Quello gli ho sparato Un caricatore intero Alla fine Alla fine sarà morto Alla fine sarà morto Lì ci sono altri giocatori Ora vediamo un po' di devastarli Vai devastiamo qualcuno Ok ragazzi Finalmente uno l'ho ucciso Lì c'è un altro Anche un altro ucciso Vai che ora facciamo le serie di uccisioni Gli altri per il momento Sono tutti spinti lì In quella sorta di zona recintata Andiamo Spariamo a quello Spariamo a quello Vai 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 Ok ragazzi Qui c'è un altro Mitraiamolo No 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 Capriola capriola Via 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 Non mi avrete Lì c'è uno ragazzi In fondo Dove sei? C'è uno lì ragazzi Distruggiamolo Distruggiamolo No Come ha fatto a non morire No vabbè Impressionante Impressionante Allora prova ad andare qui nel container Lì c'è uno Vai 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 No devi morire Devi morire Mi hai fregato prima Ma due volte non mi freghi Uccisione assistita No vabbè Mi rubano le uccisioni Ragazzi Questo è il mio deathmatch Però Comunque sia Deve andare sempre Per come deve andare No Mi sono buttato nel tram Sì sì Era il tram quello Non era il treno Mi sono buttato ragazzi Nel tram Allora qui c'è qualcuno Vai Devastalo Devastalo Ok quello è morto ragazzi Qui c'è altra gente Capriola Capriola Vai l'hanno ucciso L'hanno ucciso Sono salvo Cioè sono vivo Veramente per miracolo Vediamo un po' Rimani qui Vediamo se arriva qualcuno Vediamo ragazzi Io rimango qui nascosto Perché ho pure poca vita Vediamo se qualcuno avanza No niente Lì No ok Adesso la mia squadra sta Ricomparendo da questa parte Quella ha preso un'auto Che non serve a nulla Morirà Morirà Malamente con l'auto Allora io ora Li prendo Da dietro Si Li prendo No 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 Ci sono anche loro qui Qualcuno ha preso l'auto Mitraiamolo Mitraiamolo Ma è morto ragazzi Perfetto No i veicoli Io li ho messi però Non sono buoni Non sono buoni Niente sono morto Mi hanno perforato Qui abbiamo mitraillette Uzi E cose del genere Prendiamo l'Uzi ragazzi Vai Andiamo di Uzi Perché purtroppo la carabina È finita Andiamo di Uzi Facciamo un po' I veri gangsta Però ecco Qui ce n'è uno Mitraiamolo Con l'Uzi Non si scherza Che per realtà Ragazzi Non è neanche tanto forte Come arma Però Però Io li uccido No 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 Non salire Non salire ora Che dobbiamo massacrare quello Ricarica Niente Forse già ho ricaricato ragazzi Ammazziamo quello Vediamo un po' Sì Lui fa le capriole Però Alla fine ti prenderò Alla fine ti prenderò Vai che con l'Uzi Non si scherza Ma perché sale Io giustamente Mi avvicino lì Massacreamolo Mamma mia ragazzi L'Uzi Ha fatto il suo lavoro Senza dubbio Allora Qui sto rischiando di morire Infatti Ammazzalo 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 Mamma mia ragazzi Mi sto devastando Con l'Uzi Allora qui Dov'è 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 Qualcuno mi ha sparato Oh Qui c'è un sacco di gente Sono morto sicuro E infatti Niente ragazzi Raining 2 Non ha avuto il tempo Non ha avuto il tempo Proprio di sparare Comunque sia l'Uzi Fantastica Riprendiamola Vai Mi porta fortuna E poi appunto Non è neanche così potente nel gioco La carabina ovviamente È molto meglio Però sono senza munizioni Poi ho pure l'altra L'altra mitragliatrice Comunque l'incontro Si è spostato Dall'altra parte E quindi Cerchia No vabbè Questi qui compagno Eh vabbè Eh vabbè Niente da fare ragazzi Ok Quello è morto Però c'è un altro Ho seriamente rischiato di morire Mitraglialo Mitraglialo Capriola No non mi avrai No non mi avrai Semplicemente non mi avrai Ragazzi Oh 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 Capriola No questo qui mi frega Niente Ce ne erano due C'era un altro pure dietro Comunque manca un minuto Praticamente alla fine Stiamo vincendo Veramente di brutto Ragazzi E ci sta Sono contento Perché Prima Non mi hanno fatto vincere Nella gara Che era la mia gara Almeno nel Nel deathmatch Vorrei vincere Riprendiamo l'Uzzi Sta per finire tutto Ragazzi Io avanzo Ovviamente con La mia Uzzi Che è qualcosa di fantastico Quelli sono forse Dentro del container No no Non c'è nessuno lì Tu ce n'è uno È sopravvissuto Quello è morto Ragazzi vai Uno l'ho ucciso È finita 111 uccisioni Abbiamo vinto Niente L'Uzzi è stata Veramente fondamentale Vincitore Ragazzi Quindi spero che il video Vi sia piaciuto Vi ho portato insomma Le due primissime attività Che ho creato Tanto tanto tempo fa Ragazzi 3-4 anni fa Insomma su GTA Volevo portarvele Insomma è stato bello Rigiocarlo ogni tanto Giocare queste attività Ragazzi storiche Ormai almeno per me Sono storiche Le prime attività che crei Sono qualcosa di Comunque sia molto bello Nonostante magari Siano Ovviamente semplicissime Rispetto a quello che c'è ora Perché ormai Gli aggiornamenti è tutto Ragazzi Ci sono tantissime cose in più Su GTA Comunque sia Io spero che il video Vi sia piaciuto Qui è Dexta Lasciate un bel mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti